Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Santa Rita, noi ammiriamo il tuo coraggio e la tua costanza nel limitare Gesù nella testimonianza della fede e della carità, sia assolvendo fedelmente i tuoi impegni quotidiani, sia affrontando con fede e speranza anche le situazioni più difficili, e sentiamo vergogna per le nostre frequenti incertezze. Per la nostra pregrizia e per la nostra incoerenza. Aiutaci a diventare pienamente responsabili del dono della fede e quindi ad operare sempre il bene con lo Spirito Cristiano, affinché il nostro prossimo possa più facilmente unirsi a noi nell'odare il Padre. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia gloria al Padre, al Padre.